Non mettersi in viaggio se non siamo attrezzati con i mezzi antineve e antighiaccio, per cui sto parlando di gomme adatte al periodo invernale oppure catene a bordo che possono essere montate in caso di urgenza. E' ancora una volta un appello alla prudenza, quello della provincia di Arezzo, nonostante al momento i 1300 km di strade di competenza dell'ente siano tutti percorribili. Chiaramente i passi appenninici o altri passi nella montagna cortonese, castiglionese del comune di Arezzo dove c'è ancora un po' di neve al suolo, bisogna usare i dispositivi antineve che sono o le gomme invernali oppure le catene. Altra cosa da segnalare è che la strada giornale 71 per quanto riguarda la competenza della provincia di Arezzo, cioè fino al Passo dei Mandrioli, è aperta. Mentre invece, per quanto riguarda il tratto romagnolo, la provincia di Forlicesena ha emesso un'ordinanza con divieto di passaggio a tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. Per cui non andiamo in Romagna, arriviamo fino alla Badia Prataglia. Sicuramente la chiusura dell'E45 ha portato a qualche problematica. Dal nostro punto di vista abbiamo implementato i mezzi antineve e spargisali che erano in quella zona, facendo sì che i convenzionati, oltre al mezzo che hanno convenzionato per le nostre strade, ne mettersi alla disposizione degli altri. Per cui la situazione è abbastanza sotto controllo. In questo momento però per la neve noi abbiamo inibito al traffico per i mezzi trainanti o rimorti o gli atri articolati la 258 perché chiaramente può provocare proprio il blocco di questa arteria che in questo momento è indispensabile al traffico leggero. Alcuni fiocchi sono arrivati anche in città, in particolare nelle zone più alte, imbiancate da una leggera coltre di neve e invece regolare il traffico sulle strade del comune di Arezzo. Le scuole sono rimaste aperte in tutta la provincia. Arezzo, Capolona, Castiglion, Fiorentino, Lucignano, Marciano e Monte San Sabino hanno infatti deciso di riaprire le porte degli istituti scolastici dopo la misura precauzionale di ieri ad eccezione del comune di Castiglion-Fibocchi. L'allerta meteo per neve e ghiaccio è stata infine prolungata dalla regione toscana sino alla mezzanotte di mercoledì ma con un codice di rischio inferiore si passa infatti dall'arancione al giallo.